Un tocco da parte dei giocatori in maglia bianca, in fallo laterale, Lefebvre va direttamente al tiro Unico cambio per Mr. Pinna questa sera è Piccheri in panchina, intanto non l'hanno, prende la mira, va con il destro dell'out Rimessa laterale già effettuata da Blisseur con Gavioli, prova a mettere dentro la riva Maramao con il mancino Maramao Sarà rimessa laterale per il Blisseur, palla per Maramao che si coordina a Santarelli, la leva dal palo Già effettuata da Santarelli, è intanto venuto a farci compagnia anche l'uomo dietro le quinte con Giordano Che prova con il mancino, subito il vantaggio del Cotton Club Lefebvre si ribalta al lato da Oltremarini, vertice sinistro dell'aria, Oltremarini entra sul destro, lo libera Poi arriva ancora Gavioli e Santarelli per la seconda volta in partita si supera una buona dose dei suoi abituali chilometri in partita Cerca il triangolo con Maramao, è riuscito, palla messa dentro, serie di tocchi e poi a porta vuota Gavioli Taglia ora Lefebvre, si allontana Norano, va Piccari direttamente in porta e praticamente Giuffrida ha salvato Piccari Che avrebbe un'altra mezza idea di andare direttamente in porta, allarga invece sulla destra per Giuffrida Salta un avversario, ne salta due, entra in area, Giuffrida, due minuti scarsi Palla messa dentro, sfiltra il pallone e arriva Fabrizio Nolano Fusione un po' in panchina del Cotton Club, palla dentro, Vitale di testa, intercetta Zamperini Fischio da parte del direttore di gara con il braccio, rigore per il blister, Maramao sul pallone contro Santarelli Parterà in corsa numero 17, va Maramao, Santarelli viene da parare poi ma ancora Maramao Sulla ribattuta con Santarelli che si infuria perché nessuno ha anticipato il numero 17 Si può riprendere il gioco, ricordiamo il parziale allo Sport City, 2-1 per il Cotton Club Entra in area Giuffrida, palla per Lefebvre, 3-1 del Cotton Club Santarelli con le mani, rimette lungo a cercare Lefebvre, cerca la sponda per Mele Liguori, palla che arriva ancora alle Febvre, allarga per Giuffrida che va di prima intenzione In questo momento ribalta tutto il lato a cercare Mele, fa buona copertura il Blisseur Che può ripartire ora, situazione di 4 contro 2 con Maramao Che entra in area, prova a mettere sul secondo palo, arriva poi Guarrasi 3-2, riapre la partita il Blisseur Acquistato fiducia, deve crederci Maramao aveva tagliato molto bene, viene sfischiato invece fallo ai danni di Marco Gullotti Difensore del Cotton Club, Zamperini sul palo Parte Gavioli, la palla filtra, 3 pari del Blisseur Che torna sulla parità con la punizione perfetta Poteva ripartire Blisseur ma ha intercettato Piccheri, Nolano Ancora Nolano salta a Liguori, Nolano può liberare il destro, traversa piena di Nolano Giordano Consegna la sfera al Blisseur, ripartenza 3 contro 2 Adesso il Blisseur ha anche l'occasione per vincerla Palla per Guarrasi che non controlla il pallone Dentro per Maramao che va con il mancino Maramao 4-3 del Blisseur Altra ripartenza dei bianchi Che trovano per la prima volta in partita Il gol del vantaggio Quando sono stati attaccati Cosa che devono fare anche in questi ultimi 120 secondi Palla dentro per Lefebvre che la gira Espulso Davide Lefebvre Che ha rivolto qualcosa di troppo riguardoso nei confronti del direttore di gara Infatti perde palla Gullotti Palla per Maramao Altra ripartenza del Blisseur Maramao va direttamente in porta E Santarelli Deve rifugiarsi in angolo Per la squadra di Mister Mazzoni Che ora ovviamente vuole far scorrere il tempo Esce una situazione complicata Liguori va direttamente in porta Liguori 5-3 Chiude la partita il capitano La dedica ovviamente è speciale E arriva ora il triplice fischio del direttore di gara Il Blisseur in rimonta Batte il Cotton Club 5-3 Ci crediamo Questo l'abbiamo dimostrato e confermato oggi Che ci siamo fatti valere con una squadra di spessore come il Cotton E sono convinto che Se questa discontinuità che abbiamo nelle partite Nei risultati Fosse un po' più accentuata Magari con qualche vittoria in più Magari avremmo potuto ambire anche a un posto nei playoff È una sconfitta che pesa Veniamo dall'entusiasmo della vittoria contro Checco La classifica è corta Sono punti che pagheremo pesantemente Adesso ci possiamo soltanto chiudere nello spogliatoio Chiacchierare Capire un attimo bene per quale motivo ci siamo fatti riprendere E poi superare Una partita che al decimo minuto del secondo tempo Vinciamo 3-1 Perderla 4-3 Non so neanche trovare le parole giuste Nel senso che in questo momento c'è tanta amarezza C'è tanta amarezza anche nei giocatori L'ho visto Quindi non è dire che a loro non gli interessi giocare O magari un po' di supponenza Complimenti agli avversari Perché comunque si gioca sempre contro un'altra squadra